Mi starete chiedendo cosa faccio con questa canna di bambù in mano. Emanuele Turato prova a insidiare i predatori con una vecchia e polverosa canna munita di un mulinello d'altri tempi. Vabbè, si pesca un po' più a fantasia. Una sfida non facile, ma assolutamente gratificante. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta! Dusty Rhodes, dal 27 ottobre ogni giovedì alle 22.30 in esclusiva su Pesca, canale 236.